Allora comincio anche a esaminare il passato e cerco di capire bene queste fotografie che sono lì e che cosa vogliono significare. Allora scopro che mio zio, che era il sottotenente di Vascello Giovanni Battista Massafra, era praticamente appartenente al Corso Rostri. Il Corso Rostri è stato un corso che ha perso anche molta gente in guerra, in particolare poi l'ammiraglio Torrisi che fu il capo di stato maggiore della difesa, era stato suo compagno di corso. E scopro che questo signore, da sottotenente di Vascello, era imbarcato sul nave Scirocco, cacciato il pedinile di squadra. Questa nave ha una storia triste, ha una storia triste perché poi il suo epilogo è tragico. Mia mamma ricorda che in quei giorni il fratello si lamentava del fatto che il comandante, non ne farò il nome perché è una persona che ha una medaglia d'oro, si era invasato. Cioè ha avuto questa medaglia, questa decorazione per un episodio eroico che lui aveva naturalmente espletato come comandante di cacciato il pediniere. E lui ovviamente voleva ripetere queste gesta. La nave non era efficiente, aveva delle grosse difficoltà. E quindi stavano forzando, come fanno di solito i comandanti che forzano l'arsenale per essere immediatamente operativi, aveva forzato che la nave fosse messa in efficienza. Scatta la famosa seconda battaglia della Sirte, cioè la Marina mette in campo uno schieramento grossissimo per intercettare un grossissimo convoglio che deve rifornire Malta. Quindi usando anche la corazzata Littorio, insomma un grosso spiegamento. Lo scirocco non è efficiente, però il comandante continua a protestare per essere messo in condizioni. Mio zio dice a mia madre, questa volta finisce male, viene richiamato a bordo, durante la notte la nave va in approntamento, con le prime luci dell'alba parte e va a cercare di recuperare il Littorio. In realtà quella è una battaglia terribile perché gli inglesi stesero una cortina di fumo. Praticamente noi non fumo in grado neanche di sparare quasi un colpo. L'ammiraglio Iachino cercò di aggirare in qualche maniera la cortina fumogena e non ci riuscì. Lo scirocco non riuscì ad arrivare al gruppo che stava combattendo. Quando le condizioni meteorologiche cambiarono tempestivamente in una situazione di tempesta, chiesero alle navi di rientrare. Ovviamente le corazzate e gli incrociatori tenevano il mare molto meglio delle piccole navi. In fondo dobbiamo tenere conto che i cacciatori del peniere che avevamo erano piccoli. Avevano 1800 tonnellate, 2000. Adesso noi abbiamo cacciatori del peniere di 7000 tonnellate. Insomma era una cosa che per certi versi era una nave ballerina. Naturalmente che cosa succede? La sorte ti presenta il conto. Sulla rotta del ritorno la motrice di sinistra, mi pare, va in avaria e quindi si spegne. La nave resta con una sola erica che è in una situazione terribile perché manovra male. In questa situazione naturalmente viene messa sotto sforzo finché a un certo punto purtroppo anche l'altra motrice si ferma. La nave si traversa al mare, arriva anche un altro cacciator pediniere, il geniere, che cerca di soccorrere. Non c'è niente da fare, si rovescia e praticamente muoiono tutti. Quella notte perdiamo anche il lancere. Per una strana curiosità, una curiosità tragica, a mio socio che comandava una squadriglia di ricognizione lontana che era equipaggiata sui famosi Canzetta 501, mi viene chiesto di intervenire per cercare di salvare chi effettivamente può essere salvato. Lui non può assolutamente decollare e nonostante tutti i tentativi è costretto ad esistere. Non viene recuperato nessuno in quell'occasione, due o tre giorni dopo, quasi in maniera fortunosa, un idrovolante dell'aeronautica, della reggia aeronautica, trova due superstiti e sono gli unici due che sono sopravvissuti. Di questi due, uno poi narra le ultime ore della nave e ricorda che il comandante si era suicidato, almeno questo diceva lui, sparandosi un colpo in testa davanti a un'immagine sacra, che non mi ricordo se era Santa Rita, che stava sulla plancia dello Scirocco. E lo Scirocco quindi finisce la sua vita così. Altrettanto dolorosa era la storia del primo marito della mia mamma. Questo era un sottotenente di Vascello, faceva l'ufficiale in seconda del sommergibile Dagabur. Il Dagabur era un sommergibile piccolo rispetto agli standard attuali. Questo sommergibile Dagabur aveva un capitano di corvetta come comandante o un tenente di Vascello, l'ufficiale in seconda, perché quando uno è un ufficiale inferiore a questo titolo, non di comandante in seconda, o altrimenti, come si dice in marina, il tenente era questo sottotenente di Vascello, Domenico Catalano. Il sommergibile si era distinto durante la guerra, in particolare in un episodio precedente, che era nel 14 dicembre, mi pare, del 1941, aveva attaccato il Galatea, che era un incrociatore inglese. Sembrava che avesse avuto successo l'attacco, perché aveva lanciato due siluri che erano esplosi. In realtà però il Galatea era sopravvissuto a questo attacco e poi fu finito, diciamo, da un sommergibile tedesco che lo affondò. Nella stessa occasione però c'era un altro bersaglio, quindi il Dagabur attaccò in qualche maniera, fortunosamente, anche questo secondo bersaglio, che la storiografia poi inglese ci ha identificato come il talisman, che era un atto sommergibile che navigava in emersione. In quella occasione furono lanciati altri due siluri che esplosero e per questa operazione fu insinito, mi pare, il comandante di medaglia d'argento e il suo tenente di medaglia di bronzo al valor militare, che io ancora conservo insieme a una decorazione della guerra di Spagna, perché aveva fatto anche la guerra di Spagna, decorazioni che aveva anche mio socio, che aveva fatto la guerra di Spagna, ma che poi sono state eliminate con l'arrivo della Repubblica, perché la guerra era stata considerata fascista. La storia del Dagabur è una storia tragica, altrettanto come quella dello Scirocco, perché il Dagabur viene comandato di partecipare insieme ad altri sommergibili a un agguato nell'ambito della battaglia di mezz'agosto. Quindi, diciamo, all'inizio di agosto del 1942 viene impegnato in questa operazione importantissima, che sarà comunque in qualche maniera di successo per le forze dell'asse e riguarda sempre il rifornimento di Malta da parte di una grossa formazione inglese che dispiega incrociatori, porta aerei, veramente uno spiegamento di forze notevolissimo. Però naturalmente gli inglesi sono furbi, quindi creano in qualche maniera anche dei diversivi, per cui fanno degli altri convogli. Uno viene chiamato Gruppo Bellos dal comando dell'ammiraglio che ne aveva l'incarico e il Dagabur assale, naturalmente, segue e assale il Gruppo Bellos. Però, purtroppo, non so se per una questione di distrazione, per mancanza di mezzi tecnici, qui la storia non è molto chiara. Lui naviga in emersione a poppavia del convoglio che dovrà attaccare, alcuni sostengono che forse navigava in emersione per ricaricare le batterie, perché questi sommergibili ovviamente erano diesel, elettrici, non si accorge che circa 5.000 metri di poppa sta arrivando un sommergibile, un cacciatore pedinieri inglese, il quale cacciatore pedinieri si chiama Wolverine, adesso la pronuncio esatta, non la sappiamo. Si rendono conto, hanno il radar che davanti a loro c'è un sommergibile in emersione, inizialmente non sanno cosa sia, ma man mano si avvicinano lo scoprono, e si rendono conto che questo sta navigando in emersione e che non si sta immergendo, quindi non li ha riconosciuti. Vanno avanti, non usano il cannone perché eventualmente si sarebbero accorti della presenza del caccio e si sarebbero immersi, e il comandante prende una decisione per certi versi tragica, lancia il caccio del pediniere a tutta velocità e praticamente sperona il sommergibile, il quale si spezza in due e si capovolge. Alcuni storiografi inglesi dicono che ci sono state anche delle voci di forse qualcuno che era rimasto a galla, perché magari il personale che era in torretta non è sprofondato con il sommergibile, però in quell'occasione nessuna nave inglese si fermò a raccogliere i naufraghi e quindi il sommergibile affondò. Mia madre cominciò un peregrinaggio da un porto all'altro perché non si sapeva realmente che fine avesse fatto il Dagabur e questo è un altro aspetto tragico della guerra. E' una cosa curiosa poi, mio zio aveva un cane, aveva un cane perché, anche quella è una storia terribile, aveva comprato un primo cucciolo di pastore tedesco, durante una sera c'era stato il solito attacco a Taranto dei bombardieri inglesi, questo cane non si trovava più perché aveva infilato, era un cucciolo, la testa tra le sbarre della balaustra del terrazzo ed era caduto, quindi era morto, povera bestia. Mio zio aveva comprato un atto, si chiamava Full, anche questo era un pastore tedesco, nella notte in cui deve partire per andare naturalmente in guerra, affida questo cane a mia madre e gli dice mi raccomando, attenta al cane che non succeda quello dell'altra volta. In realtà lui non torna più, il cane rimane a casa, come l'ultimo ricordo della storia di mio zio. A un certo punto che cosa succede? Succede come avviene in questi casi tragici, il capo di stato maggiore del dipartimento porta alla famiglia la notizia della morte del sottottenente di Vascello Massafra. Il cane si rende conto che questo porta cattive notizie, comincia a ringhiare, però in quell'occasione lui non capisce. Capisce però che da quel momento in poi mia mamma piange e Full si chiamava Full, si mette a piangere insieme a mia madre e passa il tempo così. Purtroppo muore anche il marito. Questo stesso capo di stato maggiore del dipartimento torna a portare la cattiva notizia. Il cane lo riconosce, non lo fa entrare, lo aggredisce, gli dà un morso al polpaccio e gli strappa la divisa. Ancora corre, credo, questo signore, non so neanche chi fosse, per aggiungere anche qualche altra cosa, per dimostrare quanto questa famiglia fosse stata in qualche maniera veramente devastata dal dolore della guerra. Mia anzia aveva, la sorella di mia madre aveva un fidanzato, questo fidanzato era prossimo alle nozze, perché all'epoca i fidanzati erano una cosa particolare, adesso non esistono più. E questo poverino era un centurione, cioè un capitano della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, le cosiddette camicie nere, ma le camicie nere avevano dei battaglioni combattenti, non erano soltanto di parata, era destinato in Grecia, morì in Grecia. E quindi tutti i maschi della famiglia sono stati annientati, quindi il dolore è veramente tragico. Mia mamma poi si ricordava tantissimi episodi che mi raccontava, si ricordava praticamente del bombardamento di Taranto, quando gli inglesi assalirono con gli aerosiruranti, ricordava che i tarantini guardavano con le lacrime agli occhi le navi affondate, il duilio, il littorio che era stato colpito, insomma grandi lutti. In quell'occasione veniva sempre fuori questa diferia che ci fossero dei traditori, come se a un certo punto gli inglesi ci attaccassero perché c'era qualcuno che gli raccontava i fatti nostri. Mia mamma rideva di questa cosa qua perché diceva non era difficile sapere che quando gli incrociatori o le corazzate fumavano, che erano in mar grande, voleva dire che avevano acceso le caldaie e contemporaneamente i marinai, che erano le ordinanze, correvano a ritirare i colletti inamidati dalle stiratrici perché le divise dell'epoca avevano i colletti inamidati e rovesciati, quindi era facilissimo vedere che praticamente si stava svuotando la base, non solo, ma poi il ponte era sempre aperto, cominciavano ad uscire i caccia torpediniere e le torpediniere che in gergo tecnico si chiamano siluranti, quindi non è che quelli andassero per passeggio, per mare, quelli praticamente iniziavano un'operazione di guerra. Tutto questo poi è stato in qualche maniera ben specificato poi dalla scoperta che gli inglesi disponevano di una struttura che si chiamava Enigma, con la quale praticamente decifravano i messaggi e quindi insomma gran parte delle nostre disgrazie sono state dovute proprio al fatto che l'intelligence inglese aveva capito che importanza aveva questo tipo di spionaggio e che consentiva naturalmente cose che a noi invece non erano consentite. Grazie a tutti.